No. No. Ora ti mostrerò la mia creatura. Calvati! Non ci dà per vinto però! Spenditi! Mi farò mangiare dal mio giacuolo! Aiuto! Potrebbero essere ancora qui intorno. Ho sentito dei rumori. Una giornata così in merito di essere mortata. C'è qualcosa di insano. Anche le piante ci osservano qui. Rimarrò senza essere visti.